Cosa sai dirmi, Maureen? Il presidente pretende delle risposte. Ho appena parlato col segretario di Stato britannico. Loro non ne hanno. E noi? Il localizzatore della Abbott è guasto. Abbiamo perduto il suo segnale. Ma anche se lo ritrovassimo, i corpi speciali ci tengono d'occhio. Se anche solo per fortuna riuscissi a rintracciarla, porterei Henderson dritto fino a lei. Sam, quella donna è un pericolo. Kate non ha niente a che fare con la morte di Bill. Parla pure. Stamattina Kate mi ha chiesto la lista dei visti emessi nell'ultimo mese. La cartella include tutti i controlli da noi effettuati e le referenze dei richiedenti. Se pensiamo che ci sia una possibile infiltrazione di un terrorista, quella è la prima cosa che consultiamo. Mi ha detto che tu eri d'accordo. È così? No.